Ma sentiamo il disco, aspetta, vai. Quello che ho subito in questi 80 giorni, da parte di tanti, da parte dello Stato, ma soprattutto da parte della procura di potenza, è vergognoso, è vergognoso, è vergognoso. Ma quello che ho subito oggi, ancora, sempre dalla procura di potenza, è ancora più vergognoso, più vergognoso, più vergognoso. Io sono tipo Fabrizio, uomo che ha scardinato l'Italia del vizio, tutti sempre pronti a dare il proprio giudizio. In Italia è così, vogliono tutti far mai soldi come divi dei figli, ma non è tutto qui, bisogna viverci, in Italia tutto ha un pezzo come D e G. Ehi, fra in Italia si sclera, dove l'invidia degli altri ti porta dritto in galera. Tutto non è come appare, togliamo in questo male. E la colpa non è mie di corona, le morti dopo l'indulto ne sono solo la prova. Mi sono sentito ostaggio dello Stato, mi sono sentito ostaggio dello Stato, mi sono sentito ostaggio dello Stato, ostaggio dello Stato, ostaggio dello Stato. E il buco che Fabri ha ammazzato qualcuno, tre mesi così non se li è fatti nessuno. E questa è la giustizia dello Stato, sei bello e condannato, prima di essere stato giudicato. Colonna non perdona! Ostaggio dello Stato, poi pezzo cazzo fa la gente per apparire su chi, tradiscono mogli e mariti. E voi siamo noi, i guardoni pervediti. Tutto non è come appare, togliamo in questo male. E la colpa non è mie di corona, le morti dopo l'indulto ne sono solo la prova. Mi sono sentito ostaggio dello Stato, mi sono sentito ostaggio dello Stato, mi sono sentito ostaggio dello Stato, mi sono sentito ostaggio dello Stato. Scusa Filippo, scusa Filippo. C'è un pezzo sul mio amico Bobo Vieri. Scusa Filippo. Non è mie di corona, le morti dopo l'indulto ne sono solo la prova. Mi sono sentito ostaggio dello Stato, mi sono sentito ostaggio dello Stato. ostaggio dello Stato mi sono sentito ostaggio dello Stato